Nel nome del Padre e del Dio e del Dio Santo Amen La pace sia con voi Benvenuti nella nostra Chiesa Cattedrale Per celebrare oggi la memoria, la festa di San Sebastiano Protettore del Corpo della Polizia Municipale Benvenuti a tutte le autorità, ai suoi sostenuti, ai prefetti, ai sindaci E voi tutti i cari potenti e sorelle Perché in questa Eucaristia vogliamo onorare un santo Ma vogliamo anche cogliere un esempio di quella fedeltà fino al martirio Quando si tratta di tutelare il bene Non solo degli ideali Come è stato per San Sebastiano Quello della fede Ma anche il bene comune per tutta la comunità civile Per celebrare degnamente Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti